Questa volta non c'è una serie utile da prolungare, questa volta infatti le migliori due pugliesi di Serie D sono chiamate a ritrovare senza margini di errori la via del successo per non perdere ulteriore terreno dalla capolista potenza, leader del girone H. E' proprio ciò che cerca il Cerignola, la rabbia per la sconfitta di Nardò e le polemiche per come è maturato il verdetto finale. Fanno ormai parte del passato, i pensieri sono rivolti solo alla sfida interna con il Gragnano al Monterissi. Si giocherà a partire dalle ore 16, gara semplice sulla carta ma da affrontare con la massima concentrazione durante i 90 minuti. La società guidata dal presidente Nicola Grieco intanto ha deciso di posticipare l'inizio del match ed abbassare i prezzi dei biglietti d'ingresso per agevolare una maggiore presenza di pubblico. Ora la risposta spetta ai tifosi del Cerignola. Arriva al derby con il Manfredonia dalla sconfitta di Taranto ed a un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite il team Altamura chiamato ad invertire la recente tendenza negativa al D'Angelo si giocherà a partire dalle 14.30 come su tutti gli altri campi ad eccezione. Naturalmente di Cerignola sulla panchina dei Sipontini tornerà Giovanni Baratto richiamato dalla società alla guida tecnica ad una sola settimana di distanza dalle Sonero Post Torre del Greco. Abbinamento interno sulla carta tutt'altro che proibitivo anche per la capolista Potenza che ospita al Viviani Laturris mentre la Cavese, seconda in classifica insieme al Cerignola a meno 4 dalla Betta, farà visita alla Versa. Giocherà in trasferta il Gravina che domenica scorsa ha conquistato con la Sarnese al vicino il primo successo del 2018. I Murgiani di Antonio De Leonardis la vedranno contro un Francaville in signa a caccia di punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona rossa della graduatoria. Gioca fuori casa anche il Taranto a Sarno. Idem un Ardò decisamente in salute che nell'altro derby di Puglia della ventesima giornata affronta una delle squadre più in forma del momento, l'alto tavogliere San Severo rigenerato dalla cura Giacomarro e Reduce addirittura da sette risultati utili consecutivi. Match quasi da ultima spiaggia per la Cenerentola Sporting Fulgor di scena a San Sebastiano al Vesuvio senza pubblico sugli sfalti contro il Pomigliano completa il programma della terza giornata di ritorno. Frattese Piccerro. Frattese Piccerro. Frattese Piccerro.